Beh l'idea è super da lodare, anzi direi che un paio di scarpe bisognerebbe prenderlo solamente per premiare questa iniziativa e speriamo che continuino, comunque per essere una delle prime scarpe che hanno fatto secondo me si sono già lanciati bene nel mercato. È difficile secondo me, da recensore evoluto, parlare di una scarpa appena lanciata sul mercato italiano senza raccontare un progetto, progetto partito davvero qualche anno fa. Se fossi il marketing director di questa azienda direi che questo progetto è davvero unico sul mercato anche perché offre un futuro sostenibile, crea nuovi posti di lavoro, posti di lavoro in Kenya e al tempo stesso offre un migliore impatto ambientale perché queste scarpe sono perfettamente riciclabili, tutte cose legate a un futuro più sostenibile e sicuramente progetto davvero molto promettente. E questa secondo me è la ragione principale per provare questa scarpa, la Enda, la Pathet, appena lanciata sul mercato italiano e di cui vi allego qua sopra l'unboxing che abbiamo fatto qualche settimana fa, ma in realtà oggi non mi voglio soffermare né in chiacchiere né soprattutto in dettagli tecnici, penso che la cosa più importante di questa scarpa sia parlare dell'aspetto e dell'opinione di Andrea in corsa. Tra l'altro questa scarpa mi è stata inviata gratuitamente da Enda Running Italia, ovviamente senza nessun compenso, sappiate però che io sono davvero super indipendente nelle recensioni, qualcuno ha avuto qualche dubbio, secondo me probabilmente ha preso un abbaglio. Come al solito, per capire di cosa stiamo parlando, diciamo che le specifiche sono abbastanza chiare, non sono disponibili perfettamente le altezze dal suolo, ma 252 grammi nella taglia US 9, differenziale 6, l'azienda parla di circa 30 mm nel tallone e 24 mm nell'avampiede, probabilmente dovrebbe essere la scarpa leggermente più bassa. Hanno tra l'altro una tomaia in knit realizzata con doppia densità, il knit è leggero e morbido, privo di cuciture e in effetti queste due trame con diverse densità offrono al tempo stesso sia protezione, sia contenimento, sia soprattutto flessibilità che potrebbe ovviamente essere utile per chi corre di avampiede o di mesopiede. Sappiate però che queste scarpe coccano davvero il piede e soprattutto sono supportate dal logo Enda che è presente sul lato destro ed offre davvero un'ulteriore struttura alla scarpa stessa. La parte del tallone è morbida, al tempo stesso contenitiva, non crea problemi ai tendini e secondo me offre davvero un livello di stabilità sicuramente non vista in altre scarpe neutre. Sappiate però che è fondamentale, secondo il mio punto di vista e vediamo anche quello che ci dirà Andrea, comprare la scarpa del modello giusto perché una scarpa leggermente più larga potrebbe in effetti crearvi dei problemi soprattutto a velocità elevate. Tenete conto comunque di quello che ci dirà il prodepodista soprattutto per quello che riguarda la calzata, sappiamo che la scarpa si può trovare in diversi negozi italiani che questi negozi lo spediscono anche online, vi consiglio al tempo stesso di provarla prima di comprarla. Alla tomaia sono stati agganciati due collarini per il passaggio dei lacci, idea davvero molto geniale ma ovviamente dipende anche dalla vostra conformazione anatomica. La linguetta è un tutt'uno con la tomaia e questo potrebbe rendere il collo del piede più felice e al tempo stesso l'allacciatura più semplice. Sappiate però che la scarpa è a forma affusolata quindi verificate sicuramente la calzata essendo leggermente diversa rispetto a quella tradizionale. La suola è la parte che ho apprezzato di più, sono abbastanza distratto dal mio famoso coniglio, ha una forte resistenza all'abrasione, un buon design e soprattutto questo è un old trick, sulla parte posteriore è leggermente rialzato il tallone, cosa che permette una maggiore durata della suola ma al tempo stesso anche aumenta la flessibilità e la protezione. Tra l'altro sarebbe davvero leggero se vi iscriveste al canale, non so se in effetti Andrea pesa 52 kg come la bilancia suggerisce, scusate se sono stato sintetico ma volevo lasciare la parola ad Andrea che prima della Sicilia, prima dei 52 kg ci ha raccontato cosa ne pensa di questa scarpa, nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Andrea non so cosa ne pensi ma oggi secondo me varrebbe la pena fare una piccola recensione, recensione di una scarpa, le famose Enda, l'Apatet che abbiamo utilizzato nelle ultime settimane, cosa ne pensi di queste scarpe? Ciao a tutti, guarda le abbiamo usate, le ho usate anche quando pioveva un giorno, devo dire che a primo impatto sembra davvero una pantofola, proprio anche come sta al piede dentro nella scarpa, sembra proprio di mettere le pantofole quelle invernali con un po' di vellutino, sono molto comode e morbidi diciamo, una scarpa da lento abbastanza svelta, vabbè non dico niente perché dopo mi devi fare le domande e quindi mi devi continuare. Secondo te Andrea a chi sono adatte queste scarpe? Sono appena arrivate sul mercato italiano, siamo stati uno dei primi a testarle, cosa ne pensi? Allora non è una scarpa per tutti, è soprattutto per atleti leggermente leggeri, quindi direi almeno sotto i 75 kg, forse è meglio anche i 72 kg, quindi non è una scarpa per oversize ed è una scarpa per corridori neutri, quindi la sconsiglierò un pochino ai vegli iperpronatori, il problema è solamente da Tomaya che farebbe cedere troppo il piede a chi iperprona. E secondo te Andrea per quali distanze le utilizzeresti? Ovviamente adesso fa molto caldo, comunque cosa ne pensi? Guarda non l'ho trovata calda, quindi una scarpa, poi sai che io non ho questi grossi problemi tranne con le Pegasus 37 di caldo del piede, le userei per tutte le corse lente della settimana, forse anche per il lungo, magari non il lungo maratone che diventano un po' impegnative, mi trovo bene anche ad usarle sui ritmi del lento svelto o dei fartlek non troppo tirati. Abbiamo detto nella prima recensione o comunque nell'unboxing che la calzata era particolare, che cosa suggerisci? Comunque sono disponibili sia nei negozi, sia i negozi poi le potrebbero anche vendere online. Suggerisco di provarle, se non potessi provarla nel negozio fisico la ordinerei di mezzo numero più piccolo assolutamente perché vestono grande e il mezzo numero più piccolo è perfetto, però comunque da provare. Diciamo che non le aiuta molto la tomaia in flyknit, che sembrano proprio dei calzini e però risulta ancora più larga di quello che magari sarebbe una tomaia normale. Quindi assolutamente mezzo numero in meno, sono d'accordo e penso che valga la pena andare nei negozi, però comunque mezzo numero in meno è quello che raccomando pure io. Scusami, aggiungo un'altra cosa sulla numerazione, attenti a guardare quella US come al solito ai centimetri perché il 27,5 cm mio che di solito ha un 43 cm in questo caso è un 42,5 cm quindi state attenti, guardate US e non l'europea. A livello di battistrada che sensazione hai avuto? Hai detto che l'hai utilizzata pure durante la pioggia, cosa ne pensi? Allora, il battistrada non è tassellatissimo ma non mi ha creato problemi. È una scarpa che comunque riesce a spingere, non ho mai perso il passo, quindi neanche su pista bianca qua ne abbiamo a profusione, quindi direi che il battistrada è approvato, si sta consumando un pochino ma niente di eccessivo. A livello di intersuola, è un'intersuola abbastanza classica? Che sensazione hai avuto e soprattutto la ritieni più morbida o più reattiva? Hai fatto una bella domanda. Allora, l'intersuola ce n'è abbastanza, soprattutto nel tallone. È un'intersuola che ho trovato comunque reattiva perché, te l'ho detto, quando volevo correre mi sentivo una scarpa leggera al piede che potevo spingere. non troppo protettiva ma diciamo una scarpa da lento svelto. Mi piace chiamarla così. Un po' le stesse sensazioni che mi dà una Pegasus ai tempi della 33. In questo caso, l'unica pecca a confronto alla 33 è la Tomaia un po' troppo lasca, si può dire, è un po' troppo larga, però è una scarpa più reattiva che protettiva, diciamo. Per chi volesse acquistarle, che cosa suggerisci? Quali scarpe simili, secondo te, sono presenti sul mercato in modo tale da dare anche la possibilità di capire a che cosa si avvicinano? Allora, le scarpe simili, te l'ho detto, forse come reattività direi una Mizuno Rider o le vecchie Pegasus 33-34. Come Tomaia è molto simile alle New Balance, le 1080. Diciamo che è un tipo di Tomaia che io non amo particolarmente, ma che ha fatto la fortuna di tanti runner. Ha la conchiglia morbida, che non dà problemi al tenere d'Achille, però io l'ho sempre trovato un pochino poco veloci, perché mi sembra quasi che scappi fuori il piede poi. Sì, sicuramente però potrebbe essere utilizzata, come dicevi prima, per quei lenti svelti che piacciono a noi polisti amatori, soprattutto nelle giornate di recupero. Dal punto di vista della durata, cosa ne pensi? Guarda, ti dirò che non mi sembrano segni di usura da nessuna parte. La Tomaia è comunque fatta bene, più pesantina delle altre, secondo me è comunque una buona scelta. Forse si consumerà di più il battistrada che caricherà l'intersuola. Comunque, secondo me, sui 700-800 km se li farà lo stesso. E dal tuo punto di vista, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? Guarda, il primo pregio, secondo me, è che hanno comunque creato una scarpa filante, una scarpa che se hai voglia di spingerla la spingi, è una scarpa che comunque se vuoi fare un lento ti protegge. Invece il, come si dice, il difetto più grosso, secondo me, ma è proprio un mio parere personale, è la Tomaia che è in Flyknit e non l'amo particolarmente, sempre problemi con l'allacciatura o troppo, troppo stretta o comunque rimane sempre un pochino larga. E invece, ultima domanda, cosa ne pensi di questo progetto solidale di Enda, scarpa made in Kenya che comunque dà lavoro a tantissime persone in quel paese? Beh, l'idea è super da rodare, anzi direi che un paio di scarpe bisognerebbe prenderlo solamente per premiare questa iniziativa e speriamo che continuino. Comunque, per essere una delle prime scarpe che hanno fatto, secondo me, si sono già lanciati bene nel mercato e speriamo che vada e che non sia solo un prodotto di nicchia. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo presto per ulteriori recensioni. So che adesso parti per la Sicilia, offritegli qualche cassata perché questo ragazzo sta dimagrendo a vista d'occhio. Parto per l'America perché voglio armarmi. Ciao ragazzi, ci vediamo in Sicilia perché c'è sta una nuova zona Palermo fino al primo di agosto. Ciao! 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 Ciao!